carissimi fratelli e sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno oggi la chiesa celebra la memoria di sant'ambrogio vescovo e dottore della chiesa auguriamo buona festa a chi si chiama ambrogio anche se la versione femminile esiste auguriamo anche e buona festa a tutte quante meditiamo il vangelo di matteo capitolo 18 versetti 12 a 14 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli che cosa vi pare se un uomo a 100 pecore e una di loro si smarisce non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarita in verità io vi dico se riesce a trovarla si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarite così è la volontà del padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda parola del signore carissimi abbiamo la parabola della pecora smarita che troviamo anche nel vangelo di luca nel capitolo 15 e in questo capitolo 15 di luca abbiamo una 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 serie delle parabole della misericordia abbiamo dunque la piegola smarita la dramma trovata e poi il figlio è protico e allora ci sono delle somiglianze anche delle differenze somiglianze per esempio la gioia non una volta trovata c'era la gioia ma vorrei sottolineare soprattutto le differenze quando luca ci racconta questa parabola della piccola smarita mette l'accento sulla gioia una volta trovata quella la gioia è immensa ma invece matteo non mette l'accento sulla gioia ma soprattutto sulla non apertità di quella pecora che nessuno vada perduto da recuperare tutte le pecore smarite come lo leggiamo non nel vangelo di giovanni capitolo 6 versetto 39 alla volontà del padre e di non perdere nessuno di quelli che lui mi ha dato e ha detto gesù dunque matteo punta sulla ricerca di quelli che sono smarite sono smariti e trovare farli tornare all'ovile dunque nessuno deve essere perduto invece luca parla proprio della gioia visto che siamo con matteo continuiamo con matteo allora la la pecora smarita si tratta anche dei piccoli ma non i piccoli nel senso di luca che pare dei marginati e così via ma invece matteo mette l'accento su i suoi discepoli quelli che hanno una fede debole quelli che si sono smariti quel che hanno abbandonato gesù cristo hanno abbandonato la fede hanno abbandonato la chiesa hanno abbandonato la comunità sono le pecore smarite di matteo allora gesù dice ecco a voi responsabili andate in cerca di queste pecore smarite non le giudicate non le abbandonate mandate in cerca perché hanno bisogno di noi hanno bisogno di ciascuno di noi perché noi come responsabili noi come amici noi come familiari siamo invitati di non abbandonare queste persone che che hanno abbandonato la fede per vari motivi oggi per esempio no si giudica chi è separato che divorziato che si giudica troppo ma che ne sappiamo che ne sappiamo è l'occasione giustamente di avvicinarci da queste persone per interrogare un pochino per parlare delle persone che cancellano il battesimo anche se non si può cancellare perché è indirebile rimarrà per sempre si strappa il foglio ma e il sacramento rimane abbiamo delle persone che oggi non pregano più ma non sono preoccupati perché abbiamo delle persone che non possono più veramente nominare dio e non ci domandiamo perché oppure anche scherziamo ridiamo giochiamo con loro ma non siamo mai interessati a dire ma perché e oggi questa parabola ti invita proprio all'immagine di Gesù Cristo di andare in cerca queste persone andiamo a cercare queste persone non soltanto quelli che hanno abbandonato la loro fede ma anche le persone che sono fuori di loro fuori di sé nel senso che la testa non va più bene non riescono più a ragionare non riescono più a rimanere proprio e cioè anche rimanere a caso problema sembra che ci sono le spine sulle sedie sempre di corso andiamo in cerca di queste persone per far tornare in loro stessi così avranno la capacità di ragionare di pensare di riflettere e di programmare la loro vita ecco carissimi la nostra missione oggi andiamo in cerca di queste persone con l'aiuto dello Spirito Santo qualche volta anche noi stessi siamo le pecore smarite non è che perché preghiamo preghiamo va bene ma la nostra preghiera è profonda o leggera non è che andiamo a messa andiamo a messa sì ma quando ne usciamo che facciamo della parola che abbiamo ascoltato ecco siamo da qualche parte anche noi le pecore smarite ma Gesù è venuto per noi ci chiama per tornare all'ovile apriamo il cuore e lui ci salverà lui vera ti salverà Dio vera e 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 ti salverà alza i tuoi occhi a lui presto ritornerà lui vera e ti salverà alza gli occhi a lui presto lui tornerà e ti salverà la gioia tua sarà condivisa e poi nessuno si perderà vi auguro una buona e santa giornata che Dio vi benedica sempre Dio vera e ti salverà